Musica Apnee del sonno, come riconoscerle e curarle? Ne parliamo col dottor Gianluca Rossato, buongiorno. Grazie per essere qui con noi, del centro di medicina del sonno IRCS Sacro Cuore Don Calabria di Verona. Allora dottore, cosa sono le apnee del sonno? La sindrome delle apnee ostruttive del sonno è una malattia molto frequente ma ancora assolutamente sottodiagnosticata in Italia. È caratterizzata da una parte molto evidente che è il russamento detto roncopatia, quindi questo rumore inespiratorio che tutti riconosciamo, a cui si associano poi delle vere e proprie ostruzioni delle vie aeree superiori in corso del sonno, sono involontarie e sono determinate dal collasso delle prime vie aeree, diciamo palatomolle lingua. E questo succede quando il soggetto inspira e si crea proprio un collasso e c'è un blocco respiratorio. Quindi di solito il partner di letto può accorgersi del fatto che il russamento viene interrotto per molti secondi e poi il paziente riprende con un russamento più forte e vigoroso, solitamente anche con qualche movimento, con qualche scossa, e queste apnee possono verificarsi anche in continuo di notte e abbiamo soggetti che fanno decine e centinaia di apnee consecutive. Allora qui è importante chiarire che le apnee notturne sono una cosa diversa dal russamento. Dunque il problema è fare la diagnosi però di questa patologia, perché a volte si dorme da soli oppure il partner non se ne accorge. Come riuscite a intuire che c'è un problema come medici? Esatto, questo è uno dei motivi per cui può esserci una sottodiagnose di questa patologia, perché delle volte il soggetto affetto da questa malattia non riconosce i sintomi. I sintomi di questa malattia notturni possono essere l'eccessiva necessità di andare a urinare, svegliarsi magari di notte con una sensazione di affaticamento, tachicardia, può succedere la mattina di avere secchezza delle fauci, avere cefalea, ma sono sintomi chiaramente che uno non riconduce alle apnee. Più spesso è proprio il partner che porta il paziente perché dice guarda che ti ho visto che blocchi il respiro. Sicuramente c'è una differenza tra il russamento e le apnee, perché mentre chi fa le apnee russa sempre, i russatori non sono tutti apnoi. C'è un po' come fosse un'evoluzione del russamento e quando si inizia magari a russare da giovani, invecchiando e magari aumentando un po' di peso, si possono iniziare a sviluppare le apnee. Allora, perché sono pericolose se vengono trascurate? Le apnee sono pericolose perché hanno delle conseguenze a breve termine dei sintomi precoci che noi possiamo vedere nei giorni successivi e delle complicanze tardive che invece si sviluppano dopo anni. I sintomi precoci, diciamo, più pericolosi sono l'eccessiva sonnolenza diurna. Questo perché le apnee creano una sorta di frammentazione del sonno perché l'organismo deve creare un micro risveglio per riattivare i muscoli e tornare a respirare. Questa frammentazione del sonno crea un sonno di scarsa qualità, un'eccessiva sonnolenza diurna e questa di giorno alla lunga può portare ovviamente a incidenti stradali, incidenti lavorativi e anche a delle conseguenze di tipo cognitivo e di apprendimento soprattutto se avviene nei giovani. È chiaro che poi a questi disturbi che possiamo vedere nei giorni abbiamo delle complicanze a lungo termine che sono ancora più pericolose perché è assolutamente assodato che le apnee nel sonno si associano ad aumentato rischio di sviluppare obesità, diabete, ipertensione, fibrillazione atriale, malattie cardiovascolari fino all'ictus e all'infarto. Quindi è molto importante fare la diagnosi per prevenire lo sviluppo di altre malattie. Perché sono un segnale d'allarme di un eventuale ictus anche, dunque fare attenzione e sottoporsi proprio a dei controlli medici. Possono essere un fattore di rischio nel predisporre a patologie che poi possono portare appunto all'ictus o all'infarto perché la catena è quella di sviluppare obesità, ipertensione, quindi è un insieme di patologie che sembra che viaggino tutte assieme e poi come via finale comune di patologia arriviamo alle patologie che nessuno di noi vorrebbe avere. Patologie gravi. Ma allora cerchiamo di capire come si curano le apnee notturne. Le apnee notturne si curano dopo aver fatto un esame diagnostico fondamentale che ci dà la gravità della patologia, che dividiamo in lieve moderato grave. Chiaramente il trattamento va scelto in base alla tipologia del paziente e alla gravità e possiamo andare dalla perdita di peso, se c'è solo l'obesità come fattore, è un fattore importante, a trattamenti posturali che vuol dire obbligare il paziente a dormire in posizione laterale se le apnesi manifestano solo in posizione supina e poi arriviamo alla chirurgia otorinolaringoiatrica o maxillo facciale, alla terapia odontoiatrica con dei bite che mandano in protrusione, in avanzamento la mandibola, aprendo lo spazio rettolinguale e poi abbiamo la terapia ventilatoria notturna che è la terapia più utilizzata per il trattamento perché è efficace in praticamente tutti i soggetti. Al 100%. Benissimo, ringraziamo il dottor Rossato per averci dato queste informazioni. Come sempre è bene però rivolgersi a un centro di medicina del sonno se ci sono dubbi di avere questo tipo di patologia. Esatto, è importante riferirsi a centri che si occupano perché per questa patologia che è multidisciplinare abbiamo anche l'apporto dei pneumologi e degli otorinolaringoiati proprio in una fase di diagnosi e poi di trattamento. Dunque un'equip di specialisti per la cura giusta. Ringraziamo il dottor Rossato, arrivederci. Grazie. Ringraziamo il dottor Rossato, arrivederci.